salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme un altro progetto di natale ovvero la stella natalizia guardate che sono carine queste due stelle che ho creato sono inamidate quindi rigide ideali per appendere all'albero per le mensole quindi per addobbare la casa e non solo fatte singolarmente perché queste sono due sovrapposte quindi uguali di lavorazione sovrapposta una all'altra fatte singolarmente le potete utilizzare come centrini oppure come sotto bicchiere quindi vi potete sbizzarrire voi come creare le vostre stelle prima di presentarvi materiale e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina facebook e la mia pagina instagram passione uncinetto e lì cercherò con delle storie dei posti di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollicello in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 rosso utilizzerò per fare il contorno questo cotone lurex sempre sul rosso voi se volete farlo uguale al mio potete utilizzare sia quello dorato e sia quello argento oppure farli come ho realizzato queste con un unico colore lavorerò il tutto con uncinetto numero 1 e 75 e poi avrò bisogno un paio di forbici una decorazione centrale se dobbiamo fare le stelle queste qua due dopo averle inamidate e le uniamo con la colla quindi o con la caldo o con la per tessuti e poi una perlina un brillantino comunque una decorazione che volete applicare nella parte centrale prendiamo il cotone rosso facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto tiriamo il filo e realizziamo tre catenelle filo sull'uncinetto entriamo di nuovo nel cerchio e facciamo una maglia alta non chiusa di nuovo entriamo prendendo il filo e facciamo un'altra maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa abbiamo tre asoline sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 filo sull'uncinetto entriamo di nuovo nel cerchio magico e facciamo una maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa un'altra maglia alta non chiusa e un'altra ancora quindi tre maglie alte non chiuse chiudiamo insieme 6 catenelle 4 5 6 di nuovo entriamo nel cerchio e facciamo 3 maglia alta non chiusa maglia alta non chiusa e poi chiuse insieme finora ne abbiamo fatte 3 ne dobbiamo fare in tutto 5 quindi facciamo 5 di queste noccioline chiamiamole così separate da 6 catenelle dopo aver fatto 1 2 3 4 5 facciamo le 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 prendiamo la codina del cerchio magico e la tiriamo e la stringiamo così rientriamo nel cappietto e ci chiudiamo qui nella parte iniziale dove abbiamo fatto appunto la prima unione ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo ottenuto una piccola stellina con cinque punte ci realziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e ne aggiungiamo 6 quindi in tutto 9 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 due volte il filo sull'uncinetto entriamo nel primo archetto che abbiamo a disposizione e facciamo la maglia alta e facciamo la maglia alta doppia o maglia altissima 6 catenelle 3 4 5 e 6 di nuovo due volte il filo sull'uncinetto entriamo sempre nell'archetto e facciamo la maglia alta e facciamo la maglia alta doppia e facciamo la maglia alta doppia o maglia altissima 6 catenelle 2 3 4 5 6 filo sull'uncinetto ed entriamo qui abbiamo lavorato questo archetto dobbiamo entrare nella seconda nocciolina qui in cima e facciamo una maglia alta così e da qui facciamo la stessa lavorazione per gli altri archetti ora ne facciamo un altro insieme 2 3 4 5 6 2 volte il filo sull'uncinetto maglia altissima nell'archetto 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 di nuovo maglia altissima nell'archetto 6 catenelle 3 4 5 e 6 e ci chiudiamo qui nella nocciolina con la maglia alta e abbiamo fatto il secondo la seconda punta continuiamo la stessa lavorazione per le altre tre e ci rivediamo qui alla fine arrivati alla fine abbiamo fatto le ultime sei catenelle contiamo 1 2 3 le tre catenelle iniziali che abbiamo fatto entriamo nella terza e ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo terminato il secondo giro della stella da qui partiamo sempre con 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 e ci chiudiamo qui dove c'è la maglia alta la maglia altissima quindi nell'archetto centrale quindi qui e facciamo una maglia bassa così poi 1 2 3 4 5 5 catenelle 2 volte il filo sull'uncinetto e entriamo nell'archetto centrale e facciamo una maglia altissima 5 catenelle 4 e 5 di nuovo due volte il filo sull'uncinetto ed entriamo sempre nell'archetto centrale facendo una maglia altissima di nuovo 5 catenelle 3 4 e 5 entriamo qui nella maglia altissima del giro precedente e ci chiudiamo con una maglia bassa 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 e andiamo nella maglia alta del giro precedente e ci chiudiamo con la maglia bassa guardate questo è il risultato abbiamo fatto sei catenelle ci siamo chiusi qui sulla maglia altissima del giro precedente cinque catenelle maglia altissima cinque catenelle maglia qui sulla maglia altissima del giro precedente 6 catenelle e ci siamo chiusi con la maglia bassa ora ne facciamo un altro insieme perché la lavorazione deve essere tutta per tutte e tre per tutte e cinque le punte così quindi facciamo le 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 andiamo qui dove c'è la maglia altissima entriamo e ci chiudiamo con una maglia bassa 5 catenelle 3 4 5 maglia altissima nell'archetto centrale 5 catenelle maglia altissima sempre nell'archetto centrale maglia bassa qui sopra la maglia altissima del giro precedente e finiamo la nostra punta con 6 catenelle 2 3 4 5 e 6 e qui dove abbiamo fatto la maglia alta facciamo la maglia bassa abbiamo terminato anche la seconda punta quindi 1 2 facciamo la stessa lavorazione per le altre e ci rivediamo alla fine arrivati qui alla fine abbiamo fatto le nostre 6 catenelle ci chiudiamo qui dove abbiamo iniziato quindi nello stesso punto entriamo e ci chiudiamo con maglia bassissima vi faccio un po vedere la stellina poi la sistemate con le mani così e questa è la stellina la lavorazione quindi tre giri abbiamo creato questa graziosa stellina ora dobbiamo contornarla nel caso specifico di quelle che ho fatto l'ho fatto con lo stesso cotone quindi da questo punto ho continuato e ora vi farò vedere i punti che dovete fare e ho contornato tutta la stellina con lo stesso filo da premettere che voi cotone potete utilizzare quale volete se la volete fare leggermente più grandetta basta utilizzare un cotone più grossetto potete utilizzare un cotone numero 3 oppure un cotone fiocco che leggermente più spesso rispetto a un cotone numero 5 in questo caso io voglio contornarla per farvi vedere l'effetto che fa con un cotone l'orex quindi in questo caso specifico taglio il filo però ripeto per farle con lo stesso filo senza tagliarle continuiamo la lavorazione in questo caso lo taglio faccio passare il filo nella solina e stringo prendo il cotone l'orex che può essere un rosso come quello che sto utilizzando io come invece potete inserire un un filo dorato un filo argentato mi porto la codina dietro così me la lavoro metto il filo l'orex in corrispondenza dell'ultimo punto ed entro qui dove ho appena chiuso quindi entro in questo punto mi prendo mi tiro il filo faccio una catenella metto i due fili in corrispondenti alla lavorazione ed entro nella prima catenella che ho a disposizione facendo una maglia bassissima entro nella seconda e lavoro sempre una maglia bassissima ed entro nella terza lavorando sempre una maglia bassissima per le altre tre invece entro direttamente nella lavorazione e lavoro 1 2 2 e 3 maglie basse quindi 3 maglie bassissime e 3 maglie basse qui possiamo lasciare le codine che già abbiamo comunque lavorato andiamo nelle cinque catenelle che abbiamo della lavorazione precedente e lavoriamo cinque maglie basse 2 3 4 e 5 entriamo qui nella in cima e facciamo due maglie basse poi facciamo la terza maglia bassa che è quella centrale 2 catenelle entriamo dove qui dove abbiamo chiuso abbiamo generato la maglia bassa prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa creando tipo una specie di punta e poi di nuovo due maglie basse 1 e 2 entriamo nello spazio successivo e lavoriamo 5 maglie basse 2 3 4 e 5 continuiamo lavorando 3 maglie basse 2 e 3 qui dobbiamo avere a disposizione le tre maglie le 3 maglie le 3 catenelle perché qui stiamo lavorando le 6 catenelle come abbiamo fatto all'inizio di questa punta quindi entriamo qua guardate 1 2 e 3 entriamo nella prima e ci lavoriamo la maglia bassissima entriamo nella seconda maglia bassissima nella terza maglia bassissima entriamo nell'altro archetto quindi già nell'altra punta e facciamo la stessa cosa 3 maglie bassissime all'inizio 2 3 come vedete ce ne sono 3 entriamo nell'archetto e queste ce le lavoriamo direttamente nell'archetto e lavoriamo le 3 maglie basse poi qui sempre 5 maglie basse 2 3 4 e 5 e qui nella punta facciamo la stessa cosa 1 2 maglie basse poi facciamo la terza maglia bassa 2 catenelle entriamo qui dove abbiamo generato la maglia facciamo una maglia bassa 2 maglie basse e continuiamo sempre la stessa lavorazione qui 5 maglie basse e nelle 6 catenelle 3 maglie basse e 3 maglie bassissime riiniziamo dall'altra parte con 3 maglie bassissime 3 maglie basse 5 maglie basse 2 maglie basse quella centrale facciamo maglia bassa 2 catenelle e ci chiudiamo sempre nella stessa maglia con maglia bassa 2 maglie basse 5 maglie basse qui 3 maglie basse 3 maglie bassissime comunque continuiamo così e ci lavoriamo tutte e cinque le punte arrivati qui all'ultimo punto ci chiudiamo nello stesso punto con maglia bassissima sfiliamo il cotone che purtroppo essendo l'urex ecco e abbiamo terminato la nostra stellina guardate la sistemiamo perché giustamente poi deve prendere forma maggiormente se la inamitate poi darete la forma la man mano la potete mettere comunque con dei pezzi e delle spilline per per stenderlo un pochino oppure con le mani stesse guardate io la sto sistemando con le mani e come vedete si sistema perfettamente quindi stirandola è sicuramente adatta anche a un sottobicchiere e a un centrino quindi se la volete fare per inamitarla e quindi fare a stella da appendere quindi doppia ne dovete fare due di queste le sovrapponete cioè le punte fate coincidere le punte all'opposto quindi la sovrapponete e riempite qui dove non ci sono le punte mettete le punte dell'altra e la incollate se invece la volete utilizzare per centrino sotto bicchiere diciamo per abbellire addobbare anche la vostra tavola di Natale le potete fare e quindi inserirle anche nella vostra bella tavola tovaglia magari se avete la tovaglia rossa potete farle bianche e fare dei sottobicchieri carini carini questo è il risultato del filo lurex non si vede cioè non rende tanto la fotocamera però vi posso assicurare che è veramente carino si può inserire anche il filo oro e argento e veramente fa la sua figura anche con questo filo particolare oppure come vi ho già detto potete lavorarla direttamente col filo di lavorazione come io ho fatto questa possiamo tagliare il filo perché abbiamo terminato agganciamo quindi facciamo passare nel cappietto il filo quindi agganciamo per bene e poi con l'aiuto dell'uncinetto lo nascondiamo dall'altra parte fra le maglie quindi lo facciamo passare in qualche maglia e poi lo tagliamo quindi con tre giri e il contorno la stellina è stata creata veramente velocissima da fare e di una semplicità anche nel ricordarvi i punti perché non sono sono diciamo ripetiamo sempre la stessa sequenza di catenelle quindi non non è neanche difficile da apprendere vi posso assicurare che dopo ne avete fatta una la fate tranquillamente a mente allo stesso modo facciamo qui con quello centrale vi ricordate questa è la godina la facciamo passare in due tre fili qui facciamo passare il filo e così lo possiamo tagliare anche questo terminata la sistemiamo diamo una forma con le mani stesse poi giustamente ok perché l'abbiamo lavorata e quindi un pochino stropicciata ed eccola qua stella decorativa quindi se la natalizia decorativa sotto bicchiere o semplice centrino per appoggiare magari i nostri piccoli personaggi di natale spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi ringrazio come sempre di avermi seguito vi ringrazio come sempre di avermi seguito